Questo splendido panorama quest'estate diventerà il teatro di una serie di eventi rivolti a un pubblico vario, ampio e con grandissimi nomi. Siamo molto felici di aver vinto la gara di affidamento per organizzare quest'estate gli eventi al maggiore. È un teatro naturale, stupendo, al di là degli eventi che cercheremo di fare al meglio. Abbiamo previsto un programma vario, al contrario dell'anno scorso, dove era richiesta soltanto la musica. E quindi cercheremo di dare particolare attenzione al pubblico giovane, anche perché ci sono altre manifestazioni su questo lago che prendono il pubblico più ampio. Andiamo dal cabaret con Pucci e con Antonio Ornano. Presentiamo il concerto di El Malmeta, che ci sembra la rivelazione più interessante di questo festival. Portiamo Emi Schilla, che è un rapper, appunto per il pubblico più giovane. E un musical, che è la febbre del sabato sera, che forse è più per la mia generazione in questo caso. Però secondo me, secondo noi, i ragazzi stanno seguendo molto il fenomeno del musical, ormai da tantissimi anni. Questo è un musical simbolo assoluto, un musical dove ci si può alzare il piede e ballare, divertente. E però è anche una storia etica. Quindi abbiamo cercato di fare un percorso un po' particolare, un po' misto, e le anticipo che probabilmente faremo una manifestazione in più, che vorremmo annunciare a breve, dedicata alla danza, che in questo momento è assente, in parte perché la febbre del sabato sera è anche molta danza. Però vorremmo allargare la proposta, ecco. E tornare per il secondo anno qui, l'anno scorso è stato un grande esperimento, era la prima volta, era nuovo il teatro, era nuovo lo spazio. Per noi era nuovo il pubblico. Ci è piaciuto molto lavorare a Verbania, lavorare qui sul lago, e siamo molto confidenti di un potenziale futuro importante per questo festival.